Lavori in corso a Bassano per un importo di 55 mila euro. In via Colomba verrà realizzato un attraversamento pedonale su pedana rialzata per garantire la protezione delle utenze deboli e la riduzione della velocità dei veicoli. Tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo sarà invece sostituita la recinzione dei campi sportivi da calcetto e da tennis di Marchesane, opera necessaria in seguito ai continui atti vandalici che hanno irreparabilmente danneggiato la recinzione stessa. Con l'occasione all'angolo sud-est verrà realizzato l'accesso per eventuali mezzi per la manutenzione. L'utilizzo dei campi resterà invariato.